Ciao a tutti, come far sentire la mancanza alla persona che ti interessa? Se vogliamo sedurre, se vogliamo coinvolgere, se vogliamo essere attrattivi, dobbiamo imparare a far sentire la mancanza alla persona che ci interessa. E per poter fare questo, cioè per poter generare mancanza, dobbiamo saper gestire in modo ottimale quello che viene chiamato desiderio possesso, cioè dobbiamo farci possedere, cioè dare disponibilità, cercare, telefonare, messaggiare su WhatsApp in modo tale da essere calibrati con le esigenze emotive dell'altra persona, perché le esigenze emotive dell'altra persona possono essere quelle di desiderare, anzi normalmente ognuno di noi ha la necessità di desiderare, però questo desiderio possiamo immaginarlo come un cappuccino, no? Non tutte le persone hanno la stessa esigenza. C'è chi, se il desiderio lo consideriamo il latte, c'è chi preferisce il cappuccino con tanto latte e poco caffè, il caffè è il possesso, c'è chi invece preferisce un cappuccino più scuro, cioè con meno latte e più caffè. Quindi il latte ce l'abbiamo tutti, dobbiamo semplicemente aggiungere il caffè. Quanto possesso dobbiamo dare? E non dobbiamo darne troppo e neanche troppo poco, perché alcune persone se gli dai troppo possesso, anzi, cioè se il possesso supera quello che viene richiesto dalla parte logica, dalla parte emotiva, la persona si sgancia. Si sgancia perché non riesce a desiderare. È ovvio che in alcuni casi, se non diamo nulla di possesso e siamo sempre indisponibili, poi si manifesta quello che viene chiamato cortocircuito, cioè la persona comunque si sgancia, perché se sparisci per sempre, poi le persone si sganciano, no? È importante però anche quando spariamo, ad esempio nel caso del no contact, se uno sparisce, deve sparire mettendo dei vincoli e soprattutto facendo vivere il senso di colpa, cioè l'altra persona deve capire che è a causa del suo comportamento che noi ce ne andiamo, che noi spariamo, tra virgolette, e non siamo più disponibili. In questo modo si alimenta continuamente, non è necessario, posso anche, come dire, sparire per tantissimo tempo, ma se l'altra persona è convinta che è per colpa sua, per il suo comportamento, io più sto lontano, più vado a caricare, più vado a caricare emotivamente e quindi alla fine ne ho un beneficio. Quindi ci sono tutte queste cose qua da prendere in considerazione. In linea di principio dobbiamo tenere presente che se riusciamo a calibrarci bene, quindi calibrarsi bene vuol dire che noi partiamo dal desiderio, solo latte, non siamo mai disponibili, mai disponibili con nessuno. Poi piano piano iniziamo ad aggiungere un po' di caffè, gradualmente un po' di disponibilità, fino ad arrivare al punto tale in cui riusciamo a capire che quella persona lì si aggancia. Non devo dare però poi più disponibilità, perché se vado a dare troppa disponibilità comunque ottengo poi l'effetto contrario. Quindi una volta che ho capito esattamente quanto devo calibrare, da lì poi, insomma, giocando un po' sul più, un po' sul meno, riesco a portare avanti delle situazioni in cui ottengo veramente dei risultati molto importanti nell'ambito della seduzione. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti al canale, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e seguimi anche sul mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti lascio il link in descrizione. Ciao a tutti!